La figura di Bob Marley ad oggi continua ad essere importante perché questo personaggio ci ricorda un aspetto fondamentale e reale dell'arte, l'aspetto sociale. È stata storia pura quando al suo ritorno in Giamaica, sul palco, davanti a 9000 persone, afferrò le mani dei due leader politici di allora, quelle mani sporche di sangue, e le astrette in segno di pace, lui al centro, in mezzo ai ladroni. Ha dato un esempio nella sua vita indelebile ed è triste che venga ricordato da molti giovani ignoranti come una persona, una figura legata solamente al mondo della cannabis, trasformandolo in quello che lui non avrebbe mai voluto essere, ovvero simbolo di ostentazione della pochezza, in quanto Bob Marley è molto di più, la cannabis stessa è molto di più. La musica sociale purtroppo non vende, non genera click, lui la faceva in maniera meravigliosa, quindi è un altro canto diciamo, ma questo è un problema attuale e quindi è stata svalutata. Perché non importa la qualità di chi ascolta oggi come oggi, ma solo quanto si viene ascoltati. Questo non ci fa onore a noi esseri umani e a noi amanti della musica vera, noi nati con l'elmetto. Bob Marley era temuto dai poteri forti, era quello il vero potere, faceva paura come faceva paura Gesù Cristo, come faceva paura Gandhi, perché il mercato non vuole questo. Siamo nell'era della pubblicità e lo siamo sempre stati, in un modo o nell'altro. Un uomo, Bob Marley, che non ha mai scritto testamento, per lui era come arrendersi al cancro. Un uomo che ha scelto di non prevenire qualcosa che lo ha fatto morire e che si poteva curare, lasciando segni indelebili, ma si poteva fare, voleva vivere al massimo, fino alla fine del suo per sempre. Un ragazzo scalzo, con una chitarra finta, in un paese che stava conoscendo l'indipendenza, e affamato non solo di cibo, ma anche di conoscenza, questo era lui da ragazzino. La storia di un musicista, che ha unito, all'interno della sua poetica, romanticismo, politica, filosofia, religione, ha saputo amare il rock, farsi corteggiare dal rock stesso, un uomo che ha firmato un patto indissolubile tra punk e reg, che ha sedato una potenziale guerra civile con il potere della musica, capite? Ha coltivato segretamente il sogno di divenire un grande campione di calcio in tutto questo, era il suo sogno, era come l'ambizione che non puoi raggiungere, cavolo sei Bob Marley, vogliamo mettere Bob Marley con un qualunque calciatore, altruista, idealista, sincero e soprattutto vivo, ed è meraviglioso ricordarlo ad oggi, nell'epoca con il più alto tasso di morti viventi, e voglio ricordarlo con un ultimo aneddoto su di lui. Lui ha voluto aiutare il suo amico di infanzia Vincent Ford, accreditandogli la scrittura di No Woman No Cry, devolvendo a lui le royalties del suo successo.